Domanda. Ad ogni semaforo c'è gente che chiede l'elemosina. Che cosa dovrei fare? Potresti dargliela, ma si sa che molti di quelli che chiedono l'elemosina la usano per bere o per drogarsi. Non ti deve interessare, perché ciò che conta veramente è l'intenzione con cui fai l'elemosina ed è quella che provoca in te uno scatto evolutivo. Grazie a tutti.